L'obiettivo è quello di far partecipare i ragazzi intorno a una tematica estremamente nuova quale quella della cultura giapponese che in questo periodo sta arrivando alla ribalta. Sempre più spesso ci capita di sentir parlare di manga senza sapere in realtà quello che nasconde questa cultura popolare giapponese che è dietro invece a una cultura tradizionale molto profonda. L'idea è quella di far conoscere ai giovani questi nuovi aspetti in una maniera dinamica, divertente che li coinvolga. Lo scorso anno era il Giappone che aveva incontrato l'Italia, quest'anno è l'Italia che incontra il Giappone. Ovvero l'anno scorso era venuta Keiko Ichiguchi che è una disegnatrice e scrittrice giapponese che vive in Italia. Quest'anno sono due ragazzi, Fabio Bartoli e Valentina Testa che poi è una ragazza picena a tutti gli effetti che invece hanno incontrato il Giappone e del Giappone hanno riportato le loro esperienze. In realtà ci proponiamo anche una terza edizione che vorremmo lanciare durante questa seconda e riuscire a costruire insieme ai ragazzi, soprattutto a tutti quelli che ci hanno dato una mano a costruire questa seconda edizione. In primis il Centro Giovani San Benedetto e poi ragazzi giovani e velentereosi come De Angelis che ha curato tutta la parte della rassegna cinematografica. Grazie